L'emergenza caldo e siccità sta mettendo a dura prova anche gli animali che a fatica trovano acqua per dissetarsi. L'ente nazionale protezione animali chiede al governo lo stato di emergenza anche per loro. L'EMPA inoltre invita tutti a mettere in pratica delle piccole accortezze per aiutare la fauna del nostro paese, sia in campagna che in città, offrendo agli animali acqua e zone d'ombra. Possiamo aiutare gli animali spiegano ponendo sui nostri balconi o sui davanzali delle ciotole in plastica, anche semplici sottovasi con acqua fresca. Meglio introdurre all'interno un peso per evitare che uccelli più piccoli possano nella foga del caldo bagnarsi, tanto da non riuscire ad uscire dalla ciotola. Chi ha un giardino potrà anche usare dei contenitori d'acqua più fondi per mettere ai micromammiferi di dissetarsi, come ad esempio i ricci. Per chi abita in campagna, mettere bacinelle o secchi d'acqua possibilmente lontano dalle abitazioni, per dare ristoro ai randaggi e anche alla fauna selvatica. Anche in questo caso meglio introdurre all'interno un peso. La raccomandazione di fornire d'acqua agli animali riguarda anche i domestici, i nostri cani in casa e soprattutto i gatti in libertà.